Ecco questo è il post di cui ho parlato nell'ultimo video di come Giovanni Falcone in base ai fatti avrebbe ricostruito il periodo delle stragi 1992-93-94 per individuare mandanti delle medesime o comunque sia coloro che ne hanno approfittato di quelle stragi per tranne un vantaggio notevole e qua noi vediamo nel post dopo due anni di analisi di ricerche chi in base ai fatti ha tratto il vantaggio maggiore e soprattutto quelli che probabilmente potrebbero essere i mandanti delle stesse stragi avvengono nella possibilità e i mezzi. Ecco come sempre bisogna però leggere attentamente ogni parola ogni passaggio e usare la propria testa per vedere e capire chi potrebbero essere i mandanti che già si evidenziano lo stesso posto avendone usufruito il maggior vantaggio nel non fermare quelle stragi stragi che hanno pertanto insanguinato l'italia ucciso decine decine di persone poliziotti giudici e soprattutto ferito centinaia di persone però c'è un aspetto importantissimo come direbbe falcone perché chi poteva fermare quelle stragi non l'ha fatto ecco una domanda che nella sua risposta evidenzia proprio i possibili mandanti e allora nel post che ricostruisce ogni aspetto di quel periodo in un modo nuovo perché tutto è cambiato quando nel dicembre del 2017 furono ritrovati gli appunti di giovanni falcone che ovviamente unito alla sentenza della corte di cassazione del 1914 evidenzia nei fatti che potrebbero essere i mandanti questo è un post che dice rivela ma come sempre dovranno essere poi i giudici i giudici inquirenti che dovranno vagliare ogni aspetto nuovo emerso e decidere cosa fare perché i mandanti sono visibili a chiunque ovviamente ho fatto presente l'importanza di leggerlo direttamente perché è molto lungo il post medesimo come c'è modo di vedere elencando le strage le date di quando sono avvenuti che evidenziano vari aspetti importanti così come evidenziano chi ne ha tratto un sfrutto enorme maggiore e che le stragi di mafia non vengono fatte solo per il 41 bis ma anche per altri due motivi e il 41 bis ha coperto ha celato gli altri due motivi che vengono evidenziati nel post stesso provati con fatti prove ecco perché è importante questo ultimo e definitivo post per capire dopo 27 anni chi potrebbero essere i mandanti perché qua faccio vedere ad esempio tutte le pagine le prime pagine giornali che parlavano appunto dell'inchiesta manipulite che soprattutto 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 contro craxi e per cui una situazione di attacco mediatico da parte dei giornali televisioni e soprattutto un interesse enorme da parte dell'opinione pubblica che vedeva pertanto in craxi qualcuno che non era degno di rappresentare in parlamento ecco la fine dell'enorme potere politico di craxi e questi attacchi di mafia sono stati fatti soprattutto indirettamente per coprire le prime notizie dei giornali appunto su un'inchiesta manipulite ma anche proprio su manipulite come si evidenzia da altre date date che corrispondono anche a quello che i carabinieri dissero a di pietro come riporta un giornale che la mafia voleva ucciderlo così come voleva uccidere borsellino e borsellino fu ucciso diversamente di pietro perché se l'avessero fatto i magistrati di allora avrebbero capito subito che erano i possibili mandanti ecco e così noi andiamo avanti nella ricostruzione di quel periodo come detto prima dopo il ritrovamento dei bigliettini qua come dicevo prima ecco del secolo 19 mafia di pietro nel mirino era il periodo delle stragi e poi qua racconta nei giornali soprattutto sotto negli appunti se avessero paolo borsellino fu ucciso perché se avessero fatto uccidere anche di pietro per inquirenti sarebbe stato facile capire chi erano i mandanti cosa che solo dopo la sentenza definitiva della cassazione contro marcello dell'utile gli appunti trovati nel 2017 di giovanni falcone si può capire dai fatti emersi chi sono i mandanti delle stragi e così via ovviamente come ho detto il posto in sé è molto lungo basta andare appunto sul blog e leggerlo soprattutto nell'interesse dei magistrati dei poliziotti e di tutte le famiglie delle vittime di quelle famigerate stragi ecco io potrei proseguire nel far vedere il posto ma come detto prima è molto lungo ma la cosa importante è esattamente leggere i vari passaggi le varie date per capire per vedere per sapere grazie